Difficoltà a parlare in pubblico. A cosa hai dovuto? Molte persone hanno difficoltà di parlare in pubblico, i motivi sono diversi, spesso magari lo facciamo per timidezza o perché non siamo abituati o perché non abbiamo seguito un metodo preciso per riuscire a parlare, ad affrontare la paura di parlare in pubblico o di comunicare in un certo modo. Prevalentemente ci sono due tre elementi fondamentali che ci tengono bloccati quando abbiamo difficoltà a parlare, soprattutto quando siamo all'inizio. Un primo elemento potrebbe essere quello dei movimenti della bocca, addirittura l'ansia può irrigidire questi muscoli e non riusciamo addirittura a muovere la mandibola, questo succede in alcuni casi. Il secondo elemento che in assoluto quello più frequente è il giudizio degli altri, la paura di essere giudicati, di questo argomento ne ho parlato più volte poi ti lascio il link in descrizione se vuoi approfondire meglio l'aspetto del giudizio degli altri. Numero 3 troppi pensieri, il fatto che noi spesso ci concentriamo troppo su quello che dobbiamo dire, dobbiamo dirlo così, dobbiamo dirlo in una certa maniera, dobbiamo esprimerci così, ci mettiamo in testa una serie di nozioni, troppe nozioni in testa e finiamo poi per esplodere perché non sappiamo come metterli in ordine e quindi questo è un altro elemento che poi alla fine arriviamo lì e siamo bloccati, siamo bloccati perché abbiamo magari caricato le nostre slide nel modo sbagliato e ci hanno detto duemila concetti per come dobbiamo affrontare il pubblico e per cui rimaniamo lì fermi. Allora cosa possiamo fare? Sicuramente allenarsi, prepararsi per parlare in pubblico è alla base di tutto, senza una preparazione efficace è normale che avremmo delle difficoltà a comunicare, è assolutamente normale e di fida da chi ti dice non mi sono preparato nulla perché devi assolutamente prepararti quando devi parlare in pubblico. Detto questo se si tratta di imbarazzo, di giudizio degli altri voglio raccontarti alcune cose che secondo me in alcune circostanze non funzionano in modo efficace e altre meno. Ad esempio un consiglio che viene dato è quello di metterti in una situazione di imbarazzo, andare magari a chiedere un prezzo in un locale, in un negozio dove generalmente non andresti, dove hai vergogna di fare certe cose. Questo delle volte funziona ma in alcuni casi se ti sembra troppo eccessivo nel farlo ovviamente tienilo a bada come come esercizio da fare. Un'altra cosa che mi viene in mente è quello di stringere i rapporti con alcune persone. Ci sono magari delle cose che ancora non sei riuscito ad affrontare con degli amici, con un amico particolare, alcuni temi che ti tieni un po' ma che vorresti condividere con lui, con lei, allora inizia a farlo cerca di fare questo sforzo in più, cerca di capire che alcune cose magari alcune difficoltà, il fatto stesso di non lo sai non riesco a parlare, secondo te cosa dice confrontarsi sicuramente ti aiuta. Un altro elemento potrebbe essere quello dell'esercizio fisico. Quando noi ci alleniamo dal punto di vista fisico semplicemente andando in palestra scarichiamo delle tensioni, rilasciamo dei neurotrasmettitori, così dicono quelli che parlano bene, che ci rendono un po' più rilassati, ci tranquillizzano. E' chiaro che hai bisogno comunque di un esercizio specifico, poi dovresti imparare meglio come si affronta un pubblico, però alcuni esercizi già da subito possono aiutarti. Ricordati infine che i tre elementi che generalmente ci portano ad avere questa difficoltà nel parlare in pubblico sono in alcuni casi la tensione che abbiamo dalla mandibola, poi il fatto di essere giudicati dagli altri che ci tiene bloccati e l'eccessivo pensiero, pensiero continuo a quello che dobbiamo dire, a quello che dobbiamo fare.